posto ciao 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 balla il cha 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 non so come si canta ciao benvenuti ai nuovi episodi di ftb in cui laga molto per colpa del convertitore quindi aspettate fermo un attimo ok poi continuo a convertire video eeehm continuiamo la tankraft partiamo subito col presupposto che qua dentro ci va dell'acqua e partiamo subito col presupposto che facciamo qualche oggettino dai speriamo non li vuole beh fa culo tutto via tutto ma cosa sta assolutamente vediamo niente niente eccolo qua cosa ci va dopo questo no cosa questo no no bisogna provare un po' aspettate ad esempio prendiamo un po' di oggetti tra cui tra cui qualche lingotto sicuramente 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 con l'oro faremo qualcosa perché se avete notato quello è un nugget d'oro quello che dobbiamo fare sul libro quello che dobbiamo fare sul libro dallo scorso episodio che mi avete notato tentiamo allora tentiamo allora è già qua casca al palco beh abbiamo la borsa cavolo proviamo al permutatio e risalita oh oh mettiamo via tutto via 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 questo qua posso buttarli via forse la cobblest ancora ancora perché ho l'iron plate bello ogni libro ha il suo bestia calderona 45 perché mi sembra di avervi ah sì perché c'era ok blocco di diamante guarda che dai divino tanto però la towncraft non serve a me lo credo allora spariamo un po' di oggetti a caso voglio guardate qua che figata qui ok vediamo questo qui che cosa è verde spariamoci spariamoci questo ma la mela ma non so se allora spariamo un po' di carbone questi qua le portiamo uno stack di sopra che servono sempre spariamo tipo uno stack di questo anche con questi wow bello ma si è vero che adesso hanno modificato tutto tutto il grano no anche questo è compatibile lo snowboard va fuoco proviamo con questi e quelli come si fa a salire le scale così velocemente con jetpack ma ormai credo che l'abbiate capito da ma c'è l'episodio allora tentiamo niente oh trovate trovate magia magia allora questa cosa può essere no qua solo magia qua anche fuoco niente fuoco qua metto niente venenum venenum vabbè niente 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 oh non mi ricordo più eccolo qua il libro cognitio qualcosa quindi ci servono un paio di libri allora buttiamo via sta roba qua prendiamo i libretti tanto abbiamo portato sulla pelle che culo eccoci qua no vittila c'è un momento che non so cosa sia c'è un oggetto però è quel coso là sembra una bussola mi sembra che trovi i minerali questi qua sotto terra però non funziona benissimo quindi però noi lo facciamo lo stesso perché si fa con la crafting table dove nel libro qua vediamo questa qua si fa sulla arcane work table cioè qua questo qua si chiama arcane work table adesso che ci penso con quattro ore un coso blu abbiamo oro no andiamo a prenderlo serve da portarci su quattro stack di di oggetti provare vediamo quattro che dico ma si portate su troppo continuo il coso blu che c'abbiamo di sapere andiamo a vedere ah si per i muri se faccio tanti episodi cioè perché visto che come sapete ne carico uno al giorno non posso fare moltissimo e io faccio tipo due o tre episodi per giorno quindi vado in guadagno di video quindi ho all'hardy screen quindi se lo faccio subito i muri e se mi dite fai i muri io lo rifaccio non faccio i muri come andava ah si la bacchetta vedete la bacchetta qui thermometer guardate che figata si si è bello anche da perterti ci cerca quelli hai capito ci cerca qui così da bello perfetto poi un giorno andiamo a cercare qualcosa di nuovo perché quel nuovo aggiornamento e non si vede a nuove nuovi nuovi spawn si 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 nuove generazioni questo possiamo lasciarlo qua perché intanto per adesso non ci serve tentiamo qualcos'altro ci riprendiamo la bacchetta grazie eh ok niente niente che sfiga eccolo qua fuoco altro niente fuoco 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 cosa si potrebbe fare col fuoco sappiatelo che non sapevo cosa faceva l'arcane perché c'era scritto che cercava i minerali sotto terra una volta ne avevo letto aspettate ah l'acto del live mystical pine mi lo so non 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 c'è che bisogna averlo basta ci sono questi cracate qua allora bisogna provare un po' tutti gli oggetti quindi ci prendiamo questo ci prendiamo anche occhio di ragno ci prendiamo qualche freccia gli underball gli underperl voglio dire ma per adesso non usa questi questi oggetti via prendiamo uno stack di cobblestone magari qualche un po' di redstone un po' di cross che è scomparsa ma e si fa hanno tutti gli stessi quindi uno vuole l'altro quindi prendiamo i rossi magari si che sono scemo perché ho preso quelli poi vediamo giù se ci serve qualcos'altro si lo so è una rottura che facciamo le scale poi andiamo giù un po' di rossi un po' di rossi che si è scosso allora vediamo con le frecce con le ossa un po' di rossi un po' di rossi che figata questo è bello questo è bello che si fa un po' di rossi come si fa cosa si fa più si vota dentro con quattro corpus e si fanno le candele ieri allora vediamo quattro corpus chi è che ha il corpus questo questo è il corpus col caso corpus le ossa o le bistecche ma si le bistecche potete buttarne tante per fare tanti oggetti ma vaffanbolo la nostra bacchetta eee zoom no è troppo grande che sfiga e adesso ok meglio usare meno meno oggetti facciamone una e va fino 1 o 2 quindi ci buttiamo dentro quattro bistecche non funziona più in entretico qua mettiamo dentro piove anche andiamo a dormire farò prima o poi quello che avevo detto quello dei foglietti mi sa che faccio anche le mura perchè con la pioggia mi piace però faccio una cosa figa con le mura tipo un castelletto uuuh ho in mente una cosa ok non sai più che mi dite faccio le mura e basta mi è venuta in mente una cosa strafiga no no si qua ok allora uno due uno due uno due uno due proviamo eccoli qua 8 magic tallow con i fili che abbiamo da basso i fili i fili i fili i fili sono qui ok dovrebbe essere senza bacchetta se non mi ricordo se mi ricordo bene vediamo no con la bacchetta perfetto tanto bisogna anche essere ricarichi quindi piano piano si ricarica lo sapete che più vicino fate l'oggetto la più forse prendete energia non sono sicuro ma credo non si ricarica tanto 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 8 cannellini e si possono vedere anche questo vediamo mettiamo un po' di candelline qua 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 sarebbe da mettere anche la nuova a fondo vediamo la zac ok quando sta bollendo ci buttiamo due carni dai veloce 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 vediamo la bacchetta giusto anch'io anch'io allora zac magic tarlo 3 perché 3 ah giusto sì infatti una in più con la bacchetta sempre sono figa ste candellini son figa ste candellini vediamo basta basta ah 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 visto però non voglio mettere in mezzo perché la conta come blocco no no ok potete toglierla tranquillamente mi sembra che potete metterla anche sopra il cesto no però sopra così oh figa mmm ma questo la togliamo mi sconcia ma non vediamo qua ok andiamo avanti aspettate ok abbiamo registrato 17 minuti quindi possiamo dire che anche questo episodio è finita però se vi piace tanto anche il prossimo sarà towncraft anche il prossimo altro sempre towncraft sempre towncraft lo spawn di zombie vedrò cosa fare e mi sa che lo farò prima o poi ehm quindi per questo episodio è tutto abbiamo scoperto le candele e questo mi scoperto via e il taumometro nel prossimo episodio scrop scropriremo scropri scopri scopri remo altro quindi da dj ciao scopri scopri